buongiorno buongiorno un cazzo ma perché buongiorno un cazzo perché perché lascia me perde oggi sei canterino sì sì sono canterino sono cazzata nero oh basta che stai fermi eh fammi le canzoncine di natale sì sì quello di natale basta che tu stai fermi che le mani è natale è natale è natale mette il cappellino di natale dov'è dov'è a che ora eccolo leva questa tavoletta ma davanti è bello guarda ma qui qui va bene una vaffangiretto si guarda davanti e leva questa tavoletta oh scemo è pieno di qui sotto sta pieno ma sta pieno sta pieno adesso guardami ma sta pieno che va da te la figa eh col pelo ma quanto tanto bello riccio ma come riccio perché riccio perché più bellino magna sto cazzo sto cazzo sto cazzo sto cazzo o no l'hai fatta la lettera babbo natale sì che hai chiesto una bella figa col pelo ma come col pelo ma adesso è anche bella eh bella ma quanto però oh va piano testa di cazzo nucleare va piano fai mie scendere ah oh macille c'è il fosso c'è si è a mano e punta la porta mia beh che è il fosso ah il bambino a natale che poteva fa eccolo il boosterillo rimesso in moto non molla un cazzo ma quanto è bello spazio ma io te lo donazzo un po' di coglione ma che si fa che si fa che si fa smettela testa di cazzo mao 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 no è natale eh c'è tutto il bar di quelli che controllano tutti ci so eh tutti presenti no è natale eh c'è tutto il bar di quelli che controllano tutti ci so eh tutti presenti se ne vuoi più ce ne sono tutte arzughe oh oh no nonno bella notizia natale chico forti torna in italia grande ho pensato che sarebbe bello scambiarci gli auguri tutti quanti quindi ore 17 faremo una diretta vero? sì 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 faremo una diretta con tutti voi mi raccomando ore 17 ma tu ci capisci dell'airbook che? l'airbook 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 ma eccolo questo sta sempre a caricare non ci capisco un cavolo tu ci capisci qualcosa un po' quella è la melina è come il table mio ma che? ma che dici? l'airbook ma quel cazzo è? è questo com'è nonna maria? la melina è come il table mio ha trincato la signorina eh eh zic che te zaccati sei contento di sta cosa? eh è come una pasqua se la c'è ma lì a campo eh è partita è partita vai vai nonna maria ubriaca ufficiale sì ciao guardate solo quando faccio i dispetti perché posso riprendere ma lui li fa guardate mi vuole buttare sul bicchiere del zucchero eh vecchia canaia eh guarda come rire eh eh sei contento? oh oh è partita ragazzi vedete che bello sta in famiglia ragazzi riscopriamo tutte ste cose il tempo è passato ah quanti ricordi fai rivivere vere vi aspettiamo ai 17 siamo uguali un altro goccetto e non c'è no male vai vai non amarei prindisi vai vai mi vengoccio dai prindisi non amarei ma questo è voto te piacciono eh eh fanno fare la pipì con te guarda guarda fanno fare la pipì con te che stefano sto facendo la sega mettilo di là tiralo più un qua si e stanno facendo la cosa che vuoi giusto mi stanno facendo mi stanno facendo c'è guardate questa è femmina e va sopra il maschio c'è qualche problema rock pistolo prissi ma che fai non c'hai capito niente eh 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 maaau però va bene il metto è atelio maaau 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 aspetta te che questo è uno stroncio di quelle di che maaau 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 grazie anche Michele e Celeste ecco later numero uno e tu Franz oh no eh che stai a mangiare niente ho il piatto qua eh si prepara si prepara e poi i cipriones oh come in salata i cipriones di voi di cipriones come le fai a me le piacciono con la setla ma che di cipriones mamma mia buoni sono mangiato anche stasera eh fortuna davvero vai 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 più forte vai bravo tu sei sempre un imbecino vai bravo vai vai ma perché hai buttato per terra ma ti facevo gli auguri natalini no guarda c'è tutto il tramite tutto di natale tutto bello è tutto di natale guardate che martellate che mi ha dato guardate una due tre quattro vergognati a natale le martellate dal nipote vergognati tu sei un terrorista guardate 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 guardate